Mancano solo gli ultimi particolari tecnici prima dell'ufficializzazione del rinnovo del contratto di servizio della Ghelas in scadenza a fine dicembre. L'amministratore della municipalizzata Francesco Tranito e l'amministrazione comunale hanno un'intesa praticamente totale. Ci saranno alcuni aggiustamenti a ribasso rispetto ai costi anche se il contenuto sui servizi verrà confermato. Servizi ulteriori potranno sempre essere aggiunti successivamente, lo spiega Tranito, in base a quelle che sono le indicazioni del socio unico che è appunto il comune. Si va verso un rinnovo semestrale per poi ritornare nuovamente a valutare la situazione anche su nuove attività. Il rinnovo nei prossimi giorni dovrebbe essere confermato con una delibera di giunta in questi ultimi mesi della Ghelas. Si è spesso parlato anche per l'eventualità di servizi nel comparto dei rifiuti, senza dimenticare la centrale unica di progettazione e la gestione dei parcheggi ottenuta al momento in via sperimentale. Su quest'ultimo punto Tranito ha spiegato che ci sarebbe la necessità di un contratto separato per la mobilità, così da affidare parcheggi, strisce blu e qualsiasi altra attività del settore ad un ramo d'azienda che si occupi solo appunto di questo tipo di interventi. Tranito parla di una necessità per un eventuale affidamento pluriennale a Ghelas almeno per consentire di programmare investimenti e interventi sulla mobilità che vengono considerati fondamentali. L'ultima parola spetta comunque sempre alla parte politica. Le cifre e gli ultimi particolari verranno probabilmente resi noti entro i prossimi giorni. Intanto negli uffici della Ghelas è partita l'analisi dei numeri che nei primi mesi del nuovo anno dovrebbe portare all'approvazione degli atti finanziari compreso il bilancio.